e al tavolo chi c'ho? Solo Andrea come judge? c'è solo Andrea come judge? grazie arriva ragazzi sto controllando una cosa per una segnalazione che ho fatto al volo quindi voglio essere sicuro prima di andare avanti di verificare questa cosa ci metto due secondi poi se no riprendiamo tranquillamente con la diretta ok perfetto controllato ok torniamo a vedere cosa la smissione in corsa come faccio quindi così torno indietro ok formato la sms credo mandare un audio in fondo grazie 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 il tablet è stato resettato? ok ecco qua stavo controllando se non c'era stato un errore di gioco e volevo essere sicuro prima che andasse avanti la partita quindi visto questo ora non ce l'ha secondo me non ce la può fare Alessandro cioè nel senso ma c'era un lanci lotto pronto a frattare il bor che aveva il cimitero che lo poteva impedire? no il discorso è poteva anche essere un lanci lotto pronto a frattare il discorso è che se lui in risposta al lanci lotto fa l'occhio perfetto non ci salta fuori quindi no ci doveva avere a run rice insomma non non recuperava e anche io pensavo appunto al lanci lotto ma evidentemente non riusciva queste mosche mi stanno facendo impazzire la mangia per mangiarsi il pezzo così mette la seconda stone è partito forte Alessandro anche se aggiro però e soprattutto Zopp non ho visto ancora il blu il che non è male però non è uh gli fa mettere 10 carte nel cimitero questa è quella no? una due tre otto nove dieci avevo flashato un loki stava un grosso debuff sulla bordo non poteva entrare l'ancelot ah ok entrava morto grazie fra sì sì era quello che diceva appunto se faceva con un loki dava meno alla bordo ed ecco che l'ancelot entrava morto quindi non riusciva a fare nulla non ho capito come è entrato questo loki ah con la coin ciao bordo è contro eccola lì purtroppo non ce la può fare a meno che non non becca veramente arondite sull'occhi non ci stai mai dietro quindi lui basta che becca lo spot giusto per fare l'occhi e ti manda a caso cioè quella carta è mostruosa ci voleva qualcosa per rimuoverla dal gioco mi sembra esistesse una carta che dice rimuovi no? poi viene che dice proprio rimuovi x copie, carte, cose del genere fate vedere la cerco nel database cerca tutti 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 cerco nome carta, nome carta testability rimuovi vediamo ah no solo una carta, rimuovi dal gioco una carta se hai lice la paghi due in meno quindi quattro rimuovere quella in gioco e una carta che condivide un attributo no 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 non rimuove tutte le copie o cose del genere quella poteva essere più forte si 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 invece così no assolutamente no guardavo ma non esiste niente del genere che possa rimuovere del tutto o evitare di farlo giocare insomma no purtroppo no ritorno su twitch ma il g2 è questo? what rule is that for federico loki promo looks cool no loki from the deck grazie 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 e tra l'altro aveva un Aronite in mano ma non lo sava Zop e l'altro l'ha pescato subito dopo. Sì, sì, sì. Andiamo se non riesci a filmare la board. Forse se ne salva uno. Com'è che funziona lui, Deus, se non mi ricordo? Mentre entra, tu dichiari quanti segnalini vuoi togliere. Da dove? Mi sembra che sia una battuta bellissima. Stato dietro. Io vorrei dare... Ma qua, per segnalità, non per la nuova. Ah, per la nuova. Allora, per la nuova. Deus. Mentre questa carta entra nel terreno e muove un qualsiasi numero dei segnalini delle entità che controlli, se la carta entra nel terreno con segnalini pari al doppio dei segnalini rimossi. Sì, quindi adesso viene rimosso 12. Che ci sono 10 o più, essa otterrà volare ed eterno e rimuove un segnalino. Questa carta mette un segnalino o un segnalino o nome. Può spostare dove vuole, come vuole. Un segnalino con un nome. 24 mi mette. Mamma mia. 24, 24. Adesso il top ha un problema. Cos'è? Un altro? Il secondo Deus fa malissimo. Diventa un 48. Eh, diventa un 48. No, beh, non li toglie tutti, non è impazzito. Toglierà fino a 10. Per metterli su. Così non può spostare il Deus. Ma a parte che non ha mano, quindi può anche togliere tutti. A tutti no. Però 12. Sì, può togliere tutti tra ne uno. 12? Deve averne 10 o più? Il Deus da 48. Sì, può fare due. Ma non fa Deus da 48. Però fa da 12 e diventa un altro 24. No, ma già fanno tutti due Deus da 24 e 24. Ma deve togliere i segnalini? Però poi li raddoppi, quindi gli conviene toglierli tutti. Quindi li ridistribuisce. Allora, tutti non li può togliere se non muore. No, uno lo lascia. Eh, uno lo lascia, ma lui spossa a te e gliel'ammazza. Di cosa parliamo? Se gliene toglie tutti tranne uno, gliel'ammazza. Ah, lui li toglie tutti tranne uno. Però, dipendente di chi è spot. E' entrato? E' entrato? E' mentre entra, effettivamente. Mamma mia. Una volta che è dentro non ho più verità per farlo. Quindi è finito. Non penso che Zato possa metterlo in questa situazione. Cioè, se l'ho fatto, è un fenomeno. Un 46-46 volare. Eterno. Un 46-46 volare. Eterno. Un 46-46 volare. Eterno. Sì, perché ha dato meno due, meno due. Quindi l'ha dovuto ridistribuire perché altrimenti moreva. Ne ho messi su tutti, ho fatto assoluto tutti i pezzi. Che non era un 47-46 volare. Ma comunque sono le 17. E' un 47. Dio santo, ragazze. Sì, non è facile, devo riuscire a fare il turno solo e gigante, ma neanche perché non ce la fanno, nel caso quello è stampato, non c'è la coin, non c'è volontà blu, non c'è niente. È strano, puri girato palo adesso, palo con lo, palo assurdo. Proprio penta. Può poter penta, c'è tutto nel cimitero? Se si sacca una stun, non so se c'è altare. No, non è altra. Sì, sì, c'è altare. Non so se la disperci là. E come se la sacca la stun, ah con l'alice? Con l'alice. Lo stun, così ora può produrre penta. Sì, il problema è pieno. Può fare antigi cacchiaroli. I giganti qualcuno, i giganti volare? Sì ma non può fare dei giganti. E farà antigi cacchiare, ma poi come rimane? Non c'ha malattra, non c'ha… No, l'ha già usato. Non c'è usato. Non c'è usata. Non c'è usata, non c'è usata. Non c'è usata, non c'è usata, non c'è usata. Non c'è usata, non ha niente. Non c'è usata. Non c'è usata. No, la può fare. E sei sempre lì. Ha una seconda spell di Loki Seconda spell di Loki Si gira a Tenia Recupera le pietre Riesce a farla Ah fa Tenia O va O fa la spell di Loki Si gira a Tenia Prende il vantaggio di una storia Eh no ma deve girarla adesso No no non deve girarla per forza adesso Ah si adesso per forza La pressa non gira Ecco Però non so se risolve comunque Si 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 riesce a fare il gigante Riesce a fare il gigante ma il gigante non ha volato Si sicuro? Non mi sembra che il gigante non ha volato Ma uno non stappa Stappa tre? Uno non spossa e non recupera No non so se lo spossa Ma se è spossato Ma se è spossato Ah allora se Non va a l'uncaza Tante cose ne due comunque Li spossa tutti C'è due deus quindi ne so Vabbè appena li fa un giudizio Ho risposto a tutto C'è fortissima cose giganti L'occhi non vuole Non c'è modi no? No infatti L'ha capito che Che non può farcela Con quello che ha messo in Puglia tiene La prende l'occhi perfetta? Prova il trick Eh si perché ora gioca di nuovo Quella di l'occhi Prova il trick Prova il trick Se non sa che non fa minimo si in attacco Ma penso che lo sappi Che non fa minimo si in attacco in che senso? Do che non fa minimo si in attacco Ah no comunque fa giudizio Vedi che non ha la guida Non c'è una guida Effettivamente Se non è il trick È l'auto di uno È l'auto di uno per la freddica Risposta sull'altro Deus Lo sappia che ha usato il tempo E poi Perfetto 1-1 1-1 Se vincessimo R2 Due R2 Tutti due tornevamo Non ha la guida Non ha la guida Non ha la guida Ma ha la guida Dark Alice Dark Alice dice Se hai in vostro Graviario Un risonatore Un risonatore Un risonatore Un chante Puoi Ok E questo è il motivo Machine 1 Secondo game E questo L'ultimo Oh my god Non ha girato a stone blue Mai Ma non ha la guida Ma non ha la guida Ma non ha la guida Ma Doppio Deus Col doppio Deus È stato bestiale Ora Ammuliga tutto per Deus Ha capito forse Che era E comunque fa cosa Con la blu E c'ha doppio Z C'ha doppio Deus In mano Più che altro non rampi Cioè non ti dà il vantaggio Di rampare Se fai doppio blu Sì certo Anche se fai un blu Adesso Dopo il turno Puoi giocare una Laira Oppure giocare altare Che forse è meglio altare Sì quindi Quindi se fa doppio blu Sta in difficoltà Ma se fa blu nero Non sta in difficoltà Regà Inizia a perdere vita Inizia a perdere vita È il primo Deus Che ti entra Poi dopo si è sotto Non hai tempo Di farlo spossare Per fare le rune Dipende Se partiti di troppo buona Sì c'è la Ginevra C'è pure il Cos'è questo? Fix 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 Ok Che se il torno Dopo c'è la Ginevra Fa Ginevra Fa Ginevra Ma è una lega banalmente Banalmente Scusi Scusi Se fai Adesso Lo spok Fa del Mind Sì Si Abri Deos Subito Fa Ginevra Fa Ginevra Fa Deos Fa Ma è anche con 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 Fa Ginevra Fa Ginevra Questa Questa è già spostata Sì si Giù sta spostata Sì Fa Maintense Oltrambi Maintense Sarebbe Quella di zero Non lo facciamo Ok Maintense Mi fai Deos Deos è fortissimo Adesso una zappa Non la regge più Non lo regge Non lo regge più Non lo regge 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 Vedete Il fix Di sicuro È già un D-10 Ha già un D-18 Ha l'Ital Al prossimo turno Forse No perché Perché ha già l'Ital Non ha già l'Ital È un D-18 Però ha 9 Può spostare Ma no Sicuro Sicuro può spostare Ma l'Ital Deve fare il secondo Deve fare il secondo E questo è già Già sgravato Con il secondo Può diventare l'Ital Quindi è turno dopo Altre cose può fare Ancora una giocata più forte Fa il secondo Deus L'Ira doppia Li sposta sull'altro Deus Che può attaccare Eh però L'occhio in prestato Se gli ammazza questo Che fixa le volontà C'era l'out C'era l'out Deve fare La scelatura di L'occhio per attenere Per cosa? Non ricercate In grossa Se vedete in grossa La risposta La risposta La risposta La risposta Eh no L'occhio perfetto E riesce a togliere Ma come fai? Non hai Non hai Che cazzo Lui li sposta Lui li sposta Sì perché ha solo due carte Non riesce a fare tantissimo Però riesce a romperli Questa e questa No non ce la fa Però basta che lui si sacca il fixer E a posto O basta che sposta Basta che sposta In modo che lui rimanglia Sopra i 10 E' buona E questi non muoiono E' che questo deve rimanere Questo deve rimanere Sì con l'altro tipo Che sposta Non può fare Massimo meno 4 Quindi deve spostarne Meno 2 Meno 2 può fare Non riesce a fare Meno 2 Però può anche fare L'occhio perfetto Meno 2 Sì sì Però adesso sul cast C'è anche il fixer Però c'è questo Quindi deve spostarne Se banna Può gli poter Meno 4 Non è un grosso problema Non è un grosso problema Deve solo calcolare bene L'osso quanto ha spostato Non so neanche se può spostare Quanti Ma 18 Può spostarne Meno 8 Massimo 8 Però ora non li sposta Ma non li sposta Se recupera ha vinto Se recupera ha vinto Infatti se recupera ha vinto Se recupera a priorità Ha vinto E lui deve spostare E lui fa piano piano 3 4 Per sicurezza No 3 E sta solo Tanto Tanto Non mangisci No Non lo so Tanto Mi fa 4 Eh Mi fa altri 3 4 4 4 Poi può spostarlo Ancora 2 Perché sono 4 2 e 6 E rimane a 100 Ok Però si si Ancora 3 Spostarle Perché fino a 9 Lo spostarle Va vinto Va vinto Va vinto Va vinto Vinto Mi sta passando la priorità Il problema è che non riesce a farlo da tutto Non riesce a farlo da tutto Perché se non muoiono No perché hanno tutti meno 2 o meno 2 Piano Quindi gliene può mettere al massimo 1 2 7 9 9 Non può mettere al 9 Ne può mettere 8 6 2 Se li toglie da qua Muore ma sti cazzi Quindi toglie 7 Da qua E diventa già 14 Non serve neanche 7 da questo Diventa 14 14 risposta qua Diventano 26 No ok Deve togliere 14 E deve toglierne 6 Ma basta Togli da qua 14 Butta lì 14 più 12 Quanto fa? 26 Il vostro si fai Fine partita Fine Fine Risposta solo da lì Risposta solo da lì Ok Ok Li metterà sopra Mostrano si fai Finita la partita E toglie 6 Giusto Non fartelo morire Quello Non fare la cazzata No perché tanto entra Giusto giusto 1 Eh ma lui risposta Potrà Eh no Perché poi risposta Lui risposta No 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 Però se non pare Che è gran cosa Mi sposta Di su un lato Che se lo sposta Di su un lato Ti sento Di su un lato Però Non Mi piace Non è Sposta Non a volare Non a volare In questo momento È certo che risposta 1 alla volta Si è dichiarato Che non blocca No Senti Ma strassi vai quando fanno 6 chiara? più 9 quindi 32 mamma mia mamma mia e lo fa per farvi bandire un pezzo? si dice l'altro spacca la pietra sono 32 meno 2 fa 30 preciso non ci credo chirurgico dai gli sti dai gli sti va a cercare qualcosa non lo so Atenia per fargli rimuovere non esiste nulla è comunque a 4 quindi a 4 non può fare nulla può fare un Loki ma poi hai già dichiarato che non blocca quindi non può fare nulla e comunque ora vola tra l'altro dai gli hai perso guarda gli sta prontando mamma mia mamma mia ha vinto Rossini incredibile allora ragazzi incredibilmente non si sa come ha vinto Artu Macchine anche oggi dopo il Wanderer di ieri ha vinto anche il blocco non si sa come grande Rossini complimenti e ragazzi ci vediamo al prossimo evento che adesso non ho idea di quando sia poi comunque seguiteci su Facebook Instagram tutto e vi teniamo aggiornati seguite il sito e saprete tutto quindi addio grazie di tutto buona giornata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti